benvenuti benvenuti cari amici del popolo della famiglia cari amici del profilo facebook di maria di nolfi improvvisamente liberato diciamo così dopo due mesi interi di silenzio il primo è stefano sigali il primo ad arrivare alla diretta insieme a luca campisi alberto agus tre regioni del popolo della famiglia già protagoniste sardegna emilia romagna e toscana arriva alessandra tumino vittoria polacci vi ringrazio molto per il sostegno in questo periodo difficile saluto antonella bagno bernarda rauci oggi ha confermato bernarda la sua disponibilità alla candidatura al parlamento per il popolo della famiglia e dunque preziosa perché le donne in particolare dovranno essere protagoniste di queste nostre scelte saluto giovanni barbaro sabino sabini ninna rello c'è anche don mirco bianchi mi fa molto piacere salutare il primo sacerdote che arriva in diretta giulio suardi roberto mura bella lavanda siamo in tantissimi grazie a tutti coloro che hanno pazientato godetevi questo momento perché come sapete la diretta sarà un unicum ci bloccheranno quando tra un'ora due ore chi lo sa quanto sarà a questo giro la possibilità di dire liberamente quello che abbiamo da dire saluto non era con giluppi leuteri che mi scrive su whatsapp saluto patrizio alessandrini barbara moi alberto rossignoli con don mirco bianchi ci vediamo a cesena sono in procinto di una serie di date in giro per l'italia dalla lombardia alla profonda sicilia già prima di natale poi dopo natale ci rivedremo in tutte le città d'italia per il o capiamo moriamo tu saluto mary rossi pdf padova qualcuno dica la pongi che sono in diretta perché mi sta scrivendo su whatsapp e non si accorta che la diretta è cominciata barbara moi dice l'unica cosa importante bei capelli mi sono tagliati tutti per diventare un parallelepipedo vedete un parallelepipedo assoluto saluto valeria necchino claudia scimain bignoli stefano pepe orazio filippelli dalla calabria altra terra fondamentale ehm elena ventini preziosa amica di faenza eh luca campisi ha detto ho pensato che ti avevano bloccato prima di andare in diretta è arrivato anche dalino lonardi altro eh amico di sventura anche lui spesso imbavagliato giovanni mazzotta dall'umbria massimo pistoia anche lui da cesena federico pieroni anche lui umbro faustino gogliandro dalla sicilia corrado salonia un saluto a tutti voi ehm in una giornata che è particolare sto lavorando al numero della croce che uscirà domani in cui annunceremo purtroppo l'approvazione proprio nella giornata di domani della legge sul fine vita è successo di tutto in questo periodo il popolo famiglia ha una grande fortuna si sono chiarite delle cose chiarite in maniera evidente eh credo agli occhi di tutti ehm anche questo voto sul fine vita oggi ha avuto in eh sugli articoli il punto massimo di sessantadue sei due voti contrari eh trentasette non stati alla camera voi capite che anche le opposizioni si sono particolarmente sciolte diciamo così la saldatura PD Movimento 5 Stelle ha attratto una diciamo così una formula abbastanza interessante perché poi c'è stata le astensioni del centrodestra alcuni centrodestra addirittura ha a favore ehm insomma un disastro dal punto vista etico e la ciliegina sulla torta di una legislatura disastrosa è accaduto appunto con i voti segreti sono stati superati tutti e 23 brillantemente dunque si poteva eh in libertà di coscienza col voto di segreto almeno eh bloccare la legge invece niente i voti sono stati quelli che sono stati ehm chiedo a tutti voi eh se potete di dare una comunicazione ai vostri amici che la diretta è in corso eh un mi piace la diretta un condividi sulle vostre pagine profilo almeno questo eh questa diretta forse l'ultima che potremo fare sarà distribuita e renderà noto a più persone possibili che alcune cose le abbiamo dette perché oggi diremo alcune cose importanti le ho scritte ad alcuni dirigenti del popolo famiglia in privato ma le ufficializzo qui in pubblico ehm la prima cosa è la data di scioglimento delle camere che come sapete ehm è fissata ormai al 27 dicembre proprio tre giorni prima della nostra assemblea nazionale ehm saluto Danilo che stava al senato i dati sono legge di fatto se domani in realtà ci sarà il voto definitivo sui dati dicevo 27 dicembre scioglimento camere tre giorni prima della nostra assemblea nazionale il 30 dicembre ci troviamo tutti e ho dato l'informazione tramite la pagina amici di Maria di Nolfi ma la ripeto anche qui dalla diretta per questo è importante che condividete tutti la diretta sui vostri profili in maniera che tutte le persone che vogliono siano informate sui fatti ci vedremo alle 11 e 45 al centro congressi Cavour che è a via Cavour 50 A a 300 metri a piedi da ehm la stazione Termini per permettere la partecipazione di tutti saluto anche Mirko De Carli che ci sta seguendo da Brescia ehm Raffaella Bandino allora 27 dicembre scioglimento camere 30 dicembre coordinamento assemblea nazionale del popolo della famiglia al centro congressi Cavour lo ripeto è a 50 a 300 metri via Cavour 50 A si può arrivare dalla stazione Termini direttamente così pure quando finiremo nel pomeriggio si può ritornare comodamente nelle proprie regioni d'origine tutti tranne Giovanni Arminio che vede arrivare che insomma in Sicilia un po' più lunga bisogna prendere l'aereo ma insomma si fa eh questa soluzione per permettere la partecipazione di tutti ehm dal 30 dicembre all'otto gennaio limeremo i lavori sulla eh sulle liste le fisseremo sia per i collegi plurinominali 64 sia Camera Senato che i collegi uninominali 242 alla Camera 109 al Senato eh dove candideremo le nostre personalità alla carica di deputato e senatore una volta ufficializzate l'otto di gennaio queste liste e ufficializzato anche il programma che accompagnerà queste liste di cui discuteremo in assemblea nazionale faremo dall'otto di gennaio al quattro di ehm febbraio la raccolta delle firme ricordo è arrivata anche Angela Ciconte ad Angela Ciconte un ringraziamento speciale perché Angela Ciconte mi ha ceduto lo spazio oggi toccava a lei alle otto di sera del mercoledì ma oggi è stata così gentile da lasciarmi spazio nel palinsesto della pdf tv eh grazie anche al coordinamento editoriale a a a inmona buongiluppi e leuteri giuseppe arena maria di giuro dicevo dunque dall'otto febbraio al quattro dall'otto gennaio al quattro febbraio raccogliamo le firme ehm e poi partirà il mese di campagna elettorale questo è il lavoro che ci aspetta quindi perché è un lavoro così fondamentale per chi avete visto che questi giorni è successo davvero di tutto non solo l'approvazione del Biotestamento che arriverà domani lo ripeto con un'opposizione sostanzialmente blanda del centrodestra ehm ma proprio oggi il pdf di Verona ad esempio denunciato centinaia di migliaia di euro stanziati dalla giunta di centrodestra del Veneto presidente e leghista Luca Zaia per la riassegnazione del sesso cioè adesso si danno centinaia di migliaia di euro a quelli che vogliono fare i trans una cosa che davvero preoccupa in maniera enorme eh e è fatto bene Filippo Grigolini e tutto il pdf di Verona a sottolineare questo atto incredibile di una giunta di centrodestra appunto che investe sulle transizioni sessuali centinaia di migliaia di euro dei veneti davvero qualcosa di incredibile saluto Nino Iraci gli amici della Liguria di Imperia ci vediamo a metà gennaio da voi questo per dirne una è perché ormai avete letto gli ultimi tre editoriali sul quotidiano la croce del nostro segretario nazionale Gianfranco Amato Gianfranco Amato ha tratteggiato precisamente la vicenda tristissima del assessore alla famiglia preso tra gli eh gruppettari di ingroia e sicuramente contro la linea della famiglia naturale eh e Gianfranco sta segnalando con precisione tutti i comportamenti di Forza Italia avete visto anche il manifesto di Forza Italia anzi proprio di Silvio Berlusconi per i diritti dei gay che sarebbero i diritti di tutti ma non nel nostro nome diciamo noi abbiamo un'altra idea di diritti diritti degli ultimi dei deboli dei figli ad avere una mamma e un papà insomma avete capito che ormai sul terreno dei principi non negoziabili è davvero incredibile sulla eutanasia e testamento biologico la Lega con Zai esprimeva voto favorevole e non ha firmato la richiesta di voto segreto quindi ha fatto sì che l'opposizione fosse blanda e solo per questo domani viene approvata la legge eh che si faceva ostruzionismo la Lega avrebbe potuto bloccare questa legge invece Zai è a favore di questa legge anzi c'è proprio a favore dell'eutanasia quindi voi capite eh addirittura adesso ha infinanziato con centinaia di migliaia di euro ehm come segnala il pdf di Verona le transizioni sessuali grazie a Milena Brindisi Trabona che dice caspita come stai bene adesso non esageriamo diciamo il silenzio da facebook aiuta a sembrare più bello saluto Gasperina Annaliggiato Maria Elisabetta Governatori che dice si è bloccata la trasmissione a me risulta piuttosto fluido tutto il transfer del della trasmissione e segnalo Marco Pennetti come sempre il bello delle nostre dirette è che tutti intervengono dando idee importanti per esempio Marco Pennetti sottolinea come Stefano Parisi altro gigante del centro-destra si si è appena schierato contro il domenica contro la domenica festiva per i commercianti che è una battaglia che invece tradizionalmente noi del popolo la famiglia facciamo ehm dobbiamo avere chiara qual è la posizione del centro-destra le ambiguità sono dappertutto dalla oscena proposta della legalizzazione della prostituzione firmata Fratelli d'Italia e Lega Nord alla diciamo opposizione più che blanda sul tema dell'eutanasia alle ambiguità sul tema della legge sull'omofobia vi ricordate lo scambio che eh è stato promesso tra Roberto Maroni e Michele Emiliano in materia di omofobia e ehm autonomia avete presente eh questo tipo di partita mh Pietro Cirasola dice Mario e se perdiamo cosa succede? Allora scapiamo bene quello che stiamo facendo questo tipo di lavoro saluto Luca Grossi eh che ha dato la disponibilità a candidarsi lo ringrazio molto che è un medico ha già preso il 3% a crema una persona coraggiosa la domanda se perdiamo allora cerchiamo di capirci bene cosa abbiamo fatto in questi due anni che fatica stiamo facendo tutti i giorni andando in giro per l'Italia Gianfranco Amato, Nicola Di Matteo, Mirco De Carli, io stesso mi incontrate ormai più voi che mia moglie ehm Filippo Grigolini, i tanti che girano per far parlare nei corsi di formazione Giuseppe Brienza, le presentazioni di Fabio Torriero, cosa abbiamo fatto in questi due anni? Perché ci siamo fatti ehm una campagna elettorale amministrativa nel 2016, un'altra nel 2017, un'altra ancora eh a Ostia proprio recentissimamente perché siamo allenati così tanto ehm per costruire un movimento politico destinato a restare io ve lo dico con chiarezza noi adesso andiamo a questa sfida eh prepareremo con grande fatica tutto ciò che c'è da preparare e andremo a questo scontro molto difficile dove proveranno a spiegare che c'è un voto utile al centrodestra noi risponderemo dicendo che il centrodestra non ci garantisce sui nostri valori e lo abbiamo misurato sul divorzio breve sulla legge Cirinna, lo abbiamo misurato sulla legge sull'eutanasia biotestamento, lo abbiamo misurato sulla legge sull'omofobia, lo misuriamo sulle politiche gender come ho detto quello che è stato appena affermato da Zaia in Veneto sull'investimento sulle transizioni. Saluto anche a Tiglio Negrini, Bernarda Raucci dice se è interrotta la diretta dovete farla solo ripartire, in realtà non si è interrotta io la vedo molto fluida. Il centrodestra è totalmente ambiguo su questi valori quindi c'è la necessità grazie a una legge proporzionale che ci permette di votare, votare semplicemente il simbolo sulla scheda che è più vicino alle nostre posizioni chi ha partecipato al Family Day non può votare una coalizione capeggiata da un Silvio Berlusconi che si è detto proprio a favore dei diritti civili dei gay col manifesto che ha pubblicato proprio ieri. E su tutti quegli altri valori gli altri partiti hanno già dimostrato la loro ambiguità, sono filoliberisti e non ci garantiscono affatto, come dice bene Luca Rolfini. Dunque, quello che dobbiamo fare, vi chiedo davvero di fare il mi piace alla diretta e condividerla sul vostro profilo perché è un'occasione forse più unica che rara che abbiamo per dare comunicazione di quello che sta per fare il popolo della famiglia. Noi ci esprimeremo in una posizione altra, è una posizione alternativa alle coalizioni esistenti, chiederemo sul simbolo del popolo della famiglia, grazie a questa straordinaria occasione della legge elettorale proporzionale, una straordinaria occasione, chiederemo dunque di dare una croce sul simbolo del popolo della famiglia. È molto semplice, dall'8 di gennaio al 4 di febbraio raccoglieremo firme, dovremo raccogliere nemmeno 50.000. Ognuno di questi firmatari deve impegnarsi a prendere 20 voti per il popolo della famiglia, non è un'impresa, hanno un mese di tempo per raccogliere 20 voti a favore del popolo della famiglia. Se questo risultato lo centriamo, entriamo in Parlamento con decine di parlamentari e cambiamo la storia. Non entriamo in Parlamento? Allora, il popolo della famiglia resterà solidamente in campo anche eventualmente non dovesse centrare l'obiettivo parlamentare, perché? Lo spiego subito. Intanto perché nelle amministrazioni locali, ad esempio, in 8.000 amministrazioni locali, quel 2%, 1,5-2% che è il minimo che ci viene accreditato, sarebbe determinante per la formazione di tutte le maggioranze. Dunque noi avremmo comunque costituito un movimento di ispirazione cristiana, prevalentemente composto da cattolici, composto da centinaia di migliaia di persone che ci avranno dato fiducia. Certo, speriamo di non fare il risultato di Magdi Allam o di Giuliano Ferrara, lo 03, lo 05, noi non vogliamo fare quel risultato. Se avessimo quel tipo di risultato dovremmo ammettere fallimento. Ma ormai tutti i dati che abbiamo avuto nelle amministrative in tutte le realtà ci dicono che almeno l'1,5-2% lo valiamo. Ora giochiamoci la campagna elettorale, vediamo se facciamo lo scatto e superiamo il milione di voti. Io credo che siamo totalmente in grado di fare questo risultato, superare il milione di voti. È solamente nelle nostre corde, lo abbiamo superato in città importanti come Verona, abbiamo addirittura quadruplicato in città più piccole come Goito, Avola e Riolo, abbiamo già superato il 3% in tante realtà importanti, penso a Conegliano, penso a Avola l'ho già citata, insomma abbiamo già un'esperienza che questo termine, questo sbarramento è superabile. Ora però, se restano 700 mila voti, 800 mila voti, cosa succede? Che noi andiamo avanti, partendo da 800 mila cattolici schierati sui valori. Voi capite che impresa che abbiamo compiuto? Comunque andrà, comunque dovesse andare questo esito di questa battaglia, aver costruito un movimento da centinaia e centinaia di migliaia di militanti, ma lo capite che significa? Che è un cambio di passo totalmente innovativo nella storia di questo paese. Poi come dice Giovanni Mazzotta, ci sono i cattolici pavidi che dubitano del nostro lavoro. Quelli che dubbiano del nostro lavoro, semplicemente vogliono votare un altro partito, fateglielo votare. Però chi è stato al Family Day, chi è stato al Family Day, non può non votare il popolo della famiglia. Perché se uno è stato al Family Day, va a votare, uno alle forze politiche che hanno tradito il Family Day, vuol dire che è fondamentalmente incoerente con le proprie stanze. Ringrazio Francesca Patuzzi che è bellissima lei e dice che sono bellissimo col nuovo look. Vi ringrazio molto, alle donne soprattutto, che fanno queste sottolineature. Noi adesso dobbiamo fare un lavoro molto serio. Io devo dire che è stato molto bello a Pato accorgermi durante l'iniziativa al Caffè Petrocchi che si è alzato in piedi uno che si è proclamato totalmente ateo e ha detto che sono totalmente ateo, ma riconosco che le istanze del popolo della famiglia sono assolutamente ragionevoli sul tema del reddito di maternità, sul tema del quotiente familiare, sul tema della libertà scolastica, sul problema migratorio, della sostituzione etnica. Le cose che dice il popolo della famiglia le condivido tutte. Quindi voterò per il popolo della famiglia anche essendo ateo. Le nostre argomentazioni sono molto forti. O capiamo o moriamo. È un libro che sta avendo un successo travolgente. Viene acquistato e letto anche da moltissimi che non appartengono direttamente al nostro mondo e che dicono, guardate anche le recensioni che ci sono su Amazon, che è un libro che spiega alcune cose in maniera indubitabile. Allora magari per Natale, se vogliamo farlo trovare sotto l'albero questo libro, noi convinceremo tantissime persone. Tantissime persone. Irene Stagliano dice se non riuscissimo a avvarcare le soglie del Parlamento, quali leggi verrebbero approvate? C'è un rischio serio che potrebbe essere approvate la legge sull'uto in affitto, il cosiddetto matrimonio equalitario. Potrebbe essere approvata la legge sull'omofobia che ci farebbe silenziare. Potrebbe essere approvata la legge sulla droga libera. Potrebbe essere approvata la legge che cancella il diritto all'obiezione di coscienza per i medici e per i farmacisti in sistema di aborto e di vendita della pillola abortive. Molte cose potrebbero accadere. Noi siamo in campo per far sì che tutto ciò non avvenga. Siamo in campo con una proposta chiara, un simbolo chiaro e con un compito chiaro. Noi abbiamo un simbolo, d'accordo? Dobbiamo far conoscere quel simbolo perché il 90% degli italiani non ci conosce. Anna Russo dice io non ci sono stata al Family Day, ma il mio voto è certo per il popolo e la famiglia. Bellissimo Anna Russo. Anna Russo tra l'altro mette il suo simbolo come fotoprofilo. Dovremmo farlo tutti. Si vota il 4 marzo, amici miei. Abbiamo 80 giorni scarsi. 80 giorni scarsi. Allora prendiamo la nostra faccia, togliamola di mezzo, mettiamo in qualche modo nella nostra fotoprofilo il nostro simbolo. Come dice Lorenzo Damiano, se lo faremo conoscere il nostro simbolo andremo al 5%. Perché il nostro problema serio è che non ci conoscono. Quando ci conoscono, quando leggono, capiamo o moriamo, come dice Leonardo De Stefano, non hanno argomenti validi per contrastare quello che c'è scritto in quel libro. Perché quello che c'è scritto in quel libro è verità. Poi puoi attaccare Adinolfi sul personale, ma sui fatti e sui dati di quel libro non puoi dire nulla. Ringrazio Francesca Brescia che dice sei grande, come sempre, sono solo grosso. Saluto Alberto Mori, saluto Vicente Schiano, Maria Luisa De Carlo, Stefano Gardini. Noi siamo alleati solo con noi stessi, dice Stefano Gardini. E con lo sguardo rivolto, questi occhi azzurri che oggi forse si vedono un po' di più, sono specchio, si specchiano nel manto della Vergine Maria. Che ci aiuti davvero, è la mia preghiera più grande. Ci sia la sua protezione per fare il percorso che dobbiamo compiere per arrivare fino a un traguardo che è un traguardo storico, storico, che travalica i personalismi. In questi giorni arrivano anche le solite piccole punture. Io voglio essere il capo qua, io voglio essere il capo là. Nessuno è capo di niente. Ognuno si occupi del suo territorio, del suo collegio, cerchi di portare i più voti possibili al popolo e alla famiglia e contribuisca a questo traguardo storico, se è sincero con le proprie, diciamo così, idealità espresse pubblicamente. Faccia tutto il possibile per ottenere un risultato che potrebbe essere completamente rivoluzionario per il padrone politico italiano. Paola Procaccini dice, sembra che dire chi era al Family Day non può non votare proprio la famiglia sia indice di arroganza, secondo alcuni. È ovvio che chi è andato al Family Day può votare chi vuole, ma se sei andato al Family Day e sei andato evidentemente per difendere, per dire no al gender nelle scuole, per difendere la famiglia naturale, per dire i figli sono figli della mamma e del papà, non è bello il transessualismo, non va incentivato, bisogna investire sulla famiglia. Come si fa a essere andati con quelle motivazioni e poi votare chi è ambiguo su questi temi? O addirittura forze politiche che hanno al loro interno candidati che hanno votato a favore della legge Cirinna. Se sei andato in piazza per manifestare contro la legge Cirinna non puoi votare le forze politiche che hanno sostenuto la legge Cirinna. Mi sembra abbastanza elementare, non c'è niente di arrogante, è un elemento di coerenza politica. Maria Termini ci seguiva a Radio Maria, c'è anche Monica che ha scritto un racconto, mandalo alla croce così lo pubblichiamo ad inolfichioccio.com, Roberto Bruno dice bisogna muoversi, farsi vedere, essere presenti ovunque, esatto, adesso è tempo di territorio amici miei, di territorio, di far vedere il simbolo, di dire a tutti gli amici che hanno partecipato alla mobilitazione di questi anni che, come dice Mauro Chialastri, chi ha buon senso vota popolo della famiglia. Francesco cita il 4 marzo 1943, quello cantato da Lucio Dalla, cantato Gesù Bambino, 4 marzo 1943, proprio a ridosso anche da nascita di mio papà che era del 1 aprile del 1943. Leggo molti altri che dicono che sono stati a Femini dei e dicono che voteranno popolo della famiglia. Questa diretta, per favore, fatela arrivare a più persone possibili. Fate un mi piace istantaneamente alla diretta, condividetela sulla pagina dei vostri amici. Cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare ora, cioè far conoscere il popolo della famiglia a più persone possibili. E' questo il tempo fondamentale di farci conoscere il simbolo ovunque, intanto come proprio fotoprofilo, poi farlo conoscere ovunque, poi stare in strada, stare in mezzo al territorio perché è lì che si costruisce e si raggiunge il consenso. Salvatore Failla dice, noi possiamo trovare materiale da divulgare per farci conoscere. C'è già un bellissimo volantino fatto da PDF Verona che sta girando molto nelle varie realtà, un pieghevole di otto facciate, basta chiederlo agli amici PDF Verona, molti sono anche qui presenti, lo stanno usando anche in altre realtà italiane. Dobbiamo avere una capacità assoluta di andare avanti senza farci intimidire dalla campagna attuale, sarà durissima contro di noi. Federico Salvatori chiede una risposta sui valori, non ho letto la domanda quindi non riesco a darti la risposta, siete moltissimi a scrivere oggi quindi mi scuso se non sono riuscito a rispondere a tutti. Se la riscrivi però faccio la risposta. Vedo che è arrivata anche Rossana Manfron che mi scriveva su Messenger quando io ero bloccato, quindi approfitto per dire a Rossana che mi dispiace di averle risposto su Messenger, se mi scrivete su Messenger mentre io sono bloccato su Facebook non posso rispondere perché io non ho la possibilità di... sono bloccato vuol dire che non posso fare nulla, non posso fare un mi piace, non posso inserire gli amici, non posso fare nulla e non posso neanche rispondere purtroppo tramite Messenger. C'è tanto materiale, ricorda Giuseppe Brienza, anche messo a disposizione da Militanza Digitale 3.0 dagli amici di Guido Mastro Buono, andate a prendere anche quel materiale. Cominciamo subito, organizziamo cene natalizie, per esempio in Umbria al 17 c'è una bella cena organizzata da PDF Umbria con Nicola Di Matteo, c'è un'altra bella iniziativa anche a PDF Padova, fa una cena natalizia che ho visto organizzata, tutte occasioni di incontro. Lo ripeto, Capiamo o Moriamo è uno strumento anche come regalo natalizio per fare arrivare le nostre idee nelle case di tante persone. Quando leggono Capiamo o Moriamo le persone cambiano idea su tanti argomenti. Si può dire porcaccia miseria ce la faremo quanto è vero che c'è Dio? Dice Stefano Sigari. Non lo so, Dio deciderà quello che deve accadere. So che noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo. Come dice Luca Grossi, dobbiamo imparare ad essere elementi di contraddizione. Federico Salvatori chiede 10 valori chiave per il PDF. Il valore chiave è l'ispirazione cristiana ed è la dottrina sociale della Chiesa. Noi ne abbiamo messi più di 10, ne abbiamo messi 26. Se leggi, caro Federico Salvatori, o Capiamo o Moriamo trovi 26 parole chiave del popolo, della famiglia, appunto tratte dalla dottrina sociale della Chiesa. Saluto Beatrice Corda, saluto Alberto Mori, Monica Sismondini, Sonia Franchi, Silvi Portaluppi, Sergio Paglialonga, Gabriella Maiglia, grazie che dice sto benissimo, Maria Rosa Ferraresi. Allora, questo lavoro dobbiamo farlo ed è molto importante. Capire quali sono le trafile dunque. 27 dicembre scioglimento camere, 30 dicembre Assemblea nazionale del popolo della famiglia, 8 di gennaio completamento del lavoro sulle viste, raccolta firme, che sarà la prima vera fase della nostra campagna elettorale, dall'8 di gennaio, lunedì 8 gennaio al 4 febbraio, quando consegneremo il materiale alle corti d'appello e poi dal 4 febbraio in poi la campagna elettorale. Gianfranco Bellini dice a chi dobbiamo rivolgerci per macerata, sentite Mirco De Carli, qui su Facebook potete scrivere direttamente a Mirco De Carli che sta lavorando sulle marche. C'è Davide dal Friuli Venezia Giulia dove ho fatto un tour bellissimo, 11 città in 4 giorni, una cosa mostruosa, ma davvero molto bella e molto incoraggiante. Stasera c'è Gianfranco Amato a Bussolengo di Verona, sarà sicuramente un'altra serata molto bella. C'è Massimo Cucciolotti, dice ecco perché non mi ha risposto su Messenger l'ultima volta, Massimo mi spiace molto infatti, sono due mesi che io non posso rispondere a nessuno su Messenger e qualcuno si offende. Io non so quando mi toglieranno di nuovo Facebook, forse fra due ore, quindi abbiate pietà di me. Un solo valore chiede Federico Salvatore, lo ripeto, la dottrina sociale della Chiesa, noi siamo cristianamente ispirati, il nostro valore è la croce, la croce di Gesù Cristo, cioè la capacità di dare la vita per gli altri, per gli ultimi, per gli oppressi, per gli oppressi dal peccato, dicendo ciò che è vero, testimoniando la verità. La verità, con la V maiuscola, questo forse è il valore che ci ispira più di tutti, la verità. E la verità e la bellezza sta dentro una donna che diventa madre, sta nella maternità, per questo proponiamo il reddito di maternità, sta nella famiglia, per questo proponiamo il quoziente familiare, sta nella scuola che forna, ma davvero e non si fa indottrinare col gender, stiamo comunque con la libertà scolastica e via dicendo tutti i nostri valori. Federico Pieroni ora deve andare, Stampe Vangelo non riprende questa settimana, noi ricominceremo dalla settimana prossima, che devo organizzare adesso tante cose per l'Assemblea Nazionale, quindi ci rivedremo in quel terreno. Francesco guida chiede per la Sicilia a chi rivolgersi, Nicola Di Matteo, coordinatore nazionale, ha anche l'incarico per la Sicilia, sul territorio siciliano c'è Giovanna Arminio, mi sono Corrado Salonia, tanti altri amici a cui ti puoi rivolgere, li trovi tutti anche qui su Facebook. ecco Anna del Guerra che riesco a salutare, Faustino Cogliandro l'ho già citato, dicevo dunque, quando vi chiederanno perché il voto al PDF è un voto inutile, è un voto disperso, noi dobbiamo votare il centrodestra perché dobbiamo battere il 5 stelle o perché dobbiamo battere il centrosinistra, dite questa è una legge di natura proporzionale, tutti votano i simboli che sono vicini alla propria identità. Vincenzo Bailon mi chiede per la Puglia, il riferimento è Enzo Fortunato in Puglia, ecco l'Anfranco Lincetto, benissimo, che arriva al coordinamento Friuli Venezia Giulia ed è in preparazione per arrivare al 30. Giuseppe Brienza ricorda che chi vuole leggere, anche Giuseppe Brienza, Giovanni Marco Tuglio, Gianfranco Amato che ha firmato gli ultimi tre editoriali, può leggere il quadriano La Croce, gli ultimi tre editoriali del quadriano La Croce sono stati firmati da Gianfranco Amato, Angela Ciconte hanno appena bloccato il profilo PDF di Angela Ciconte, spero per un giorno solo, saluto anche Michela D'Adamo sta proiettando la diretta sulla Smart TV, così sono più grosso di quello che già sono, grazie Michela, Maria Antonietta chiede per la Sardegna, riferimento è Alberto Agus, sempre lo trovi qui su Facebook, Alberto Agus, Sonia Franchi dice che la nascita del PDF è un evento che sarà nei libri di storia, eh sì, sicuramente sarà così, saluto Graziano Delellis, se una famiglia sceglie le scuole paritarie cattoliche è possibile avere un aiuto dallo Stato per la retta, il principio della libertà scolastica fondato sul concetto di scosto standard, serve esattamente a mettere in condizione le famiglie di poter scegliere liberamente a quale scuola mandare i propri figli, se vogliono anche alla scuola cattolica senza ulteriori oneri per la famiglia, questo è il concetto di libertà scolastica, saluto Gloria Callarelli, Mirta Sartori, Silvia Avanza, Lara Maffeis, Luca Barra, nostro candidato da CDF, Vincenzo Topa, che è pure arrivato per guardarci, vi chiedo di nuovo un mi piace a questa diretta, un condividi sul vostro profilo, e dunque, Piemonte, i riferimenti sono vari, Angela Ciconte, Manuel Rubue, Cristina Zaccanti, Alessandra Mondelli, Lucianella Presta, Maurizio Schininà, non so chi mi sono dimenticato, ma sono tantissimi, Cristina Zaccanti, peraltro, è appena arrivata ora in diretta, è uno dei riferimenti per la regione Piemonte. Eccoci qua, Andrea Cerulli, tanti altri amici, allora vi dicevo, la diretta fatela condividere da più persone possibili, cerchiamo di andare forte, diciamo così, a far conoscere adesso il simbolo del popolo della famiglia, c'è pure mia figlia Clara che mi sta vedendo tramite mia moglie Silvia, saluto, un abbraccio che siamo lontani anche oggi, un saluto a Clara e Silvia, Cristina in attesa di Mirko, intanto c'è anche Flavio Morani, PDF Modena, fondamentale novità anche la presenza di Morani nella compagine del popolo della famiglia in Emilia Romagna, fatemi salutare Vincenzo Bandiera, Luciana Rosamilla, allora adesso mi raccomando, il lavoro, lo ripeto anche, a quei pochi che vogliono fare i capetti, ah no io devo essere il capo della regione altrimenti non esistono capi. Ora c'è una struttura gerarchica molto precisa, ci sono dei fondatori di questo movimento che si assumeranno la responsabilità delle scelte e tutte le scelte verranno compiute da noi con la certezza di fare il bene del PDF, ovviamente con la forza del territorio, ma nessuno venga a sognarsi di poter porre, diciamo così, video ricatti a questa dirigenza nazionale, non funziona così. Voteranno popolo della famiglia se troveranno forte l'identità con questo simbolo, l'identità con questo progetto, nessuno sarà votato perché siamo noi, non votano Adinolfi, Amato, Di Matteo, De Carli, piuttosto che Grigolini o Cerutti, ok? Votano il simbolo, quindi nessuno si sogni a ora di vantare primogeniture, noi faremo sì che il simbolo per la forza che rappresenta diventi attrattivo per un milione di italiani, perché questo succeda non passa da nessuno di noi personalmente, passa da un grande lavoro di squadra, da quello che abbiamo fatto oggi, probabilmente migliaia e migliaia di persone grazie al vostro lavoro, grazie al vostro condividere la diretta di oggi hanno visto questa diretta e grazie a tutto questo noi potremo far sentire il peso del popolo della famiglia l'anno prossimo, come dice Polo Rinaldi. Questo è il lavoro che ora dobbiamo fare, il popolo della famiglia, il simbolo del popolo della famiglia, farci conoscere, far sapere che esiste questa alternativa, farlo in un periodo di tempo molto breve, da qui a fine mese, vi ho detto, accade di tutto, poiché domani approveranno anche la legge sul Biotestamento, lo capite che la china è pericolosissima. Oggi su 23 voti segreti il massimo che siamo riusciti a ottenere sono stati 60 voti a favore degli amendamenti, comprese idratazione e nutrizione. Vuol dire che non c'è più nulla se noi non andiamo in Parlamento a fare queste battaglie. Questo è il lavoro che dobbiamo compiere, dobbiamo compierlo facendo dunque un lavoro molto chiaro di presenza del simbolo sul territorio. Questo è quello che ci manca. Il nostro vero handicap in questo momento è che non ci conoscono. Dove ci conoscono la percentuale di voto che raggiungiamo è eccezionale. Quindi il nostro lavoro è solo far sapere che esiste, come dice Massimo Pistoia, sabato e domeniche fino a marzo un gazebo in piazza nella sua città che è Cesena per far conoscere il simbolo del popolo e la famiglia, spiegare che è una forza alternativa al centrodestra, al centrodestra e al Cinque Stelle, che è un simbolo che troveranno sulla scheda elettorale e potranno votare se si riconoscono nelle priorità programmatiche e valoriali che noi interpretiamo sicuramente da soli in questo paese. Se non lo facciamo noi, come dico sempre, non lo farà nessuno. Adesso è il momento. Non abbiamo più tempo. Ora dobbiamo farlo. Lo faremo in maniera incessante. Nessuno pretenda nulla. Perché tra l'altro sulle elezioni chi sarà il parlamentare è una riffa. Nessuno lo saprà. lo stesso Maria Di Nolfi non ha alcuna certezza. Anzi, probabilmente è tra quelli che non sarà eletto perché il territorio mio è un territorio di percentuale più bassa rispetto ad altri territori. Ma non è questo l'importante. Oggi l'importante è semplicemente far conoscere il simbolo, far conoscere la proposta del popolo e la famiglia, cercare in condizioni difficili quali sono queste, di far passare il nostro messaggio. Cosa vuol dire tecnicamente? Vuol dire costituirsi, agganciarsi alle realtà già costituite, fare comunicazione, fare comunicazione sui giornali locali, agganciare il referente del giornale locale, della radio locale, della tv locale, in maniera che le posizioni del popolo e la famiglia anche due o tre volte a settimana siano mandate ai media locali e trovino eco sulla stampa locale. Questo è un modo per far conoscere a più persone ancora l'esistenza del popolo e la famiglia. Far conoscere il nostro programma che è sostanzialmente contenuto nelle 207 pagine di O capiamo o moriamo, lo ripeto, 207 pagine O capiamo o moriamo è il dono di Natale per far capire a tutti quali sono le nostre proposte. Se volete www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora da quel marketplace potete prendere O capiamo o moriamo anche un voglio la mamma se siete nostalgici dei tempi che furono e anche tesserarvi al pdf è un unico marketplace www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora. Dopo che abbiamo fatto tutto questo lavoro di informazione bisogna fare un lavoro di organizzazione questo lo faremo dall'otto di gennaio raccogliendo firme sul territorio e il territorio ci permette di incontrare dunque in ogni area sono 64 le aree in cui è diviso il paese quei 750 800 cittadini che con la loro firma ci consentiranno di presentarci in quel determinato territorio le firme devono essere raccolte certificate o da eletti del territorio o da funzionari del tribunale o da notai o anche da avvocati cassazionisti dunque chi ha amici di avvocati cassazionisti li usi li chiami li contatti affinché ci possa dare una mano per andare avanti con la raccolta firme una volta completata la raccolta firme si depositano le firme con le liste in corte d'appello e da lì comincia la campagna elettorale finale dal 4 di febbraio al 4 di marzo che è accompagnata essendo campagna politica nazionale anche dalla legge sulla par condicio la legge sulla par condicio è importante perché ci consente di avere anche informazione televisiva obbligatoria ci devono mandare per forza in tv lo dico elena roncarati che è preoccupata nell'ultimo mese avremo anche quello però il lavoro preparatorio dobbiamo fare adesso perché quello che manca in questo momento è la conoscenza del simbolo del popolo la famiglia della proposta politica alternativa del popolo la famiglia questo è la nostra lacuna in questa fase della nostra storia e purtroppo stanno accadendo talmente tante cose lo ripeto molto ben evidenziate dalle ultime tre editoriali di gianfranca amato sul quotidiano la croce che è necessario davvero dare una risposta politica la risposta politica è quella che si dà sostenendo e votando il popolo della famiglia è arrivata anche maria luisa de carlo che è una cassazionista benissimo ci può dare una mano per la raccolta firme dici dove operi cara maria luisa de carlo così verrai immediatamente arruolata luca rolfini aveva mandato anche un'email al ministero dell'interno luca torna alla carica perché dovrebbero cominciare a formulare la modulistica al ministero dell'interno per poter cominciare a lavorare anche alla raccolta firme con la modulistica corretta la fase finale sarà portare voti come dice bene luca campisi ma al portare voti si arriva se facciamo tutto questo lavoro ora è il lavoro della far conoscere la possibilità che esiste il voto al popolo della famiglia ma la gente non sa che esiste il popolo della famiglia come opzione politica domani alle 9 10 darò un'intervista al radio cusano campus quindi vi chiedo per favore poi di far girare quell'intervista perché ovviamente anche sul radio cusano campus domani parlerò del popolo della famiglia parlerò delle nostre istanze politiche fateci conoscere e dunque usate questa intervista radiofonica per farla sapere farla conoscere a più persone possibili utilizziamo finché ci ha data la possibilità a questo mezzo per farci sentire da più persone maria luisa de carlo dici dove operi così ci dà una mano per la raccolta firme visto che ti dici anche prontissima ora noi dobbiamo fare dunque questo lavoro mi raccomando ricordate il 27 dicembre scioglimento 30 dicembre assemblea nazionale 8 gennaio a via della raccolta firme se per favore fate questo tipo di lavoro lo facciamo insieme ovviamente il centro nazionale vi aiuterà in tutte le modalità possibili per far arrivare il nostro messaggio alle persone ma il lavoro da fare in questa fase è esattamente questo qui far conoscere il popolo della famiglia a più persone possibili a partire dal suo simbolo a partire dal suo simbolo le ambiguità perché votare il popolo della famiglia e non il centrodestra centrosinistra e cinque stelle neanche le consideriamo è per via delle clamorose ambiguità dimostrate in tutti i passaggi legislativi dal centrodestra in questa legislatura dunque non ci possiamo affidare agli ambigui per ottenere quello che noi vogliamo cioè la difesa dei principi non negoziabili e l'investimento sulla famiglia luca campisi dice su cento persone solamente due tre conoscono l'esistenza del popolo della famiglia questa è la nostra lacuna io domani ripeto faccio comincio una campagna mediatica vado in radio a far questo lavoro ma il lavoro funziona se noi tutti diventiamo antenne ripetitrici delle cose che diciamo per questo la diretta di oggi la dovete assolutamente spammare ovunque farla conoscere a tutti perché stefano gardini dice bene bastano 15 mila voti per collegio ce l'abbiamo fatta non è impossibile ogni collegio avrà 950 mila abitanti 15 mila voti si possono prendere massimiliano esposito ha detto abbiamo dimostrato con una semplice immagine proprio stamattina o noi o loro la scelta non è difficile bellissimo anche il lavoro che fanno massimiliano esposito alex zino finori guido mastro buono tutto il lavoro della militanza digitale 3.0 maria luisa de carlo è a lecce e dunque da lecce ci potrà dare una mano per la raccolta firme in puglia è arrivata anche flaminia longobardi a questa diretta io vi ringrazio molto speriamo che ci diano le condizioni per poter fare altre dirette come questa qui su facebook ma intanto facciamo girare tutto quello che abbiamo detto oggi purtroppo è un giorno triste passa anche il biodestamento alla camera e la ciliegina di morte su una legislatura fatta tutta contro la vita e contro la famiglia che noi abbiamo denunciato in non capiamo moriamo un libro 207 pagine che contiene tutto lo spirito della nostra battaglia ora dobbiamo renderla però battaglia politica è molto più complesso dobbiamo far conoscere un simbolo che non è conosciuto dunque facciamolo conoscere anche attraverso il nostro profilo facebook anche attraverso la foto profilo facciamo sapere che esiste questa alternativa alternativa alla centrodestra al centrosinistra al cinque stelle si chiama popolo della famiglia basta fare una croce sul simbolo le elezioni sono di natura proporzionale si vota il simbolo ecco amata in diretta da bussolengo sul profilo di filippo gregolini adesso smetto io così diamo subito la linea d'amato il tema è fondamentale croce sul simbolo del popolo della famiglia raccolta firme dopo l'assemblea nazionale dal lunedì 8 gennaio in tutta italia 750 firme per collegio minimo per presentarci alle elezioni e poi la grande campagna elettorale per fare la storia insieme e così diventare davvero determinanti per la prossima legislatura altrimenti sarà una legislatura di baratro come dice monica consigliere questo è l'unico voto possibile saluto alberto agus che fa il suo appello ai sardi facciamo un lavoro importante anche nelle isole infatti io voto volo in sicilia la settimana prossima mentre alberto agus si occupa della sardegna saluto silvi portaluppi saluto paolo campisi saluto maurizio vittorio costanzo fabrizio delle piane costanza arrigoni e insomma tutti gli amici che sono arrivati oggi a salutare questo mio ritorno alla libertà almeno qui su facebook vedremo quanto dura amici cari da mani rolfi un abbraccio noi ci ritroviamo qui nelle prossime giorni stampa evangelio riprenderà dalla prossima settimana un abbraccio davvero a tutti voi grazie a maria di nolfi forza ce la possiamo fare dipende tutto da noi è tutto sulle nostre spalle ma il risultato lo possiamo davvero ottenere siamo l'unica vera alternativa alle altre forze politiche disfattiste come vengono definite quelle da luca campisi saluto anche giuseppe oddo raffaella petrarullo appena finisci metto il simbolo pdf sul mio profilo brava raffaella questo è ciò che bisogna fare simbolo pdf come foto profilo su tutti i militanti e dirigenti del popolo della famiglia cominciamo a farci conoscere perché siamo in battaglia e come sapete a noi la battaglia e addio la vittoria ho saputo anche a sabino sabini al gruppo preghiera popolo della famiglia che è l'architrave nel nostro lavoro senza la preghiera non andremo da nessuna parte e allora preghiamo tanto stasera preghiamo tanto per la salvezza dell'italia nonstante l'ennesima legge di morte che è stata varata da un parlamento malvagio un parlamento che noi cambieremo entrando in quel luogo e trasformandolo con le nostre forze con le nostre mani nude ma soprattutto con l'ispirazione che ci verrà il nostro signore gesù cristo la madonna vigli sul nostro lavoro ci conseda davvero la sua benevolenza una buona giornata una buona nottata a tutti voi